buongiorno siamo sulla nuova fiat panda che oggi viene presentata all'interno della pista di balocco nella versione 4x4 tempo nuvoloso c'è una perturbazione in corso in questi giorni in italia che sta facendo molto parlare di sé e quindi quale miglior clima per provare un off-road come come questa nuova panda tratto in salita con ciotoli ciotoli bellissima questa panda ma è fantastica come tira bello questo posto proviamo adesso ad affrontare un percorso in off-road chiudiamo i vetri perché in fuoristrata i vetri vanno soltamente finissimi dobbiamo andare un po più allegri perché stanno andando tutti piano e noi portiamo un percorsiero bello 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 bellissimo bellissimo questa panda 4x4 affronta tranquillamente qui c'è un ciotolato realizzato apposto per fare le sospensioni testo scusate delle sospensioni bellissima 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 Bellissimo! Abbiamo toccato leggermente la parte anteriore. Qui c'è un leggero dosso di scelta. L'attaculazione elliata è l'accordorelosene che non grange sigla. Ma la assistenza alle trib mii Improv. L'欸Booko endlich la procedura di direzione Il Capra Dove di G horizontalmente. Il Capra Dove sost tavalla si IC. L' mente è l'unica con l'unica di tanto è un accordo di aضirarsi organizzazioni, Setsina una leggera della regionale della suaesì di continuazione. Anche le proviamo ad avere un gregerale di Gino A. ضOk, 320 m. Salーん è un concetto di plate. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti